Hanno la garanzia e l'impegno che si va a Bruxelles a difendere gli interessi del nord, della Lombardia, di Milano e di Lecco. Quindi chi scrive Salvini? Scrive un no grosso come una casa all'ingresso della Turchia in Europa, l'islamizzazione della nostra Europa. Ronde, ronde, sto bestemmiando, ronde. Io stasera faccio una ronda a Milano. Il tema vero è se noi utilizziamo i cittadini allo scopo di consentire loro di vivere serenamente e liberamente o se li immaginiamo come una sorta di 007, 008, 009, a servizio di non si sa bene che cosa. Il problema della sicurezza non lo risolvi a colpi di slogan, perché se no Salvini ti viene bene contraccambiare la domanda e chiederti, ma scusa, se siete davvero quelli della sicurezza, a fronte di un aumento della pressione fiscale, ma perché avete tolto i soldi alla polizia?